Ciao a tutti, io sono Fedro e questo è E-Trip E oggi ho i baffi Stiamo andando in un posto veramente speciale, a Bologna È una bellissima giornata di sole Ma a Bologna ci sono i portici, quindi in teoria non dovrei bagnarmi Partiamo Arrivato Posso stare fino alle 9 di domani mattina, forse è un po' esagerato con l'ultimo spizzolo Vabbè Tra l'altro in tutto questo, vi ho neanche detto dove stiamo andando Comunque ve l'ho già esifato nel titolo Stiamo andando alla svolta, via Nosadella 35A È un posto molto particolare Ci vediamo lì Sono Chissabinker Sono arrivato, ho appuntamento tra una mezz'oretta Quindi aspetto un attimo, ci vediamo tra poco con i filmati della svolta No, non è sicuro No, non è sicuro è arrivato il momento quello sì ma non so non Locale fantastico, serata meravigliosa, abbiamo mangiato molto bene. Adesso si torna a casa, ma prima vi lascio con qualche informazione in più sulla svolta. La specie media del locale è intorno ai 28€ con un antipasto, un primo e un bicchier di vino o un primo e un secondo bicchier di vino. Le opzioni sono molteplici, infatti troverete carne, pesce, vegano, vegetariano e anche opzioni senza glutine. Troverete nel menù proposte vegane dall'antipasto al dolce, quindi potete fare una cena o un pranzo completo. Il menù è stagionale, tutto quello che trovate nel locale da mangiare e anche nell'aredamento è a chilometri zero, tranne ovviamente il pesce. I prodotti sono biologici, naturali, è uno dei loro punti di forza. La pasta è fatta in casa e anche i vini sono biologici. L'allestimento è fatto con materiali riciclati come le luci, i tavoli che in realtà sono i vecchi banchi della scuola Pacinotti. Proverete serate a tema e per questo guardate sul loro sito che vi lascio in descrizione. C'è la possibilità nel locale di fare mostre fotografiche, infatti loro sono sempre alla ricerca di persone che vogliono far vedere le loro opere, quindi se avete quadri o fotografie contattateli e vi potrete mettere d'accordo direttamente con loro. Ovviamente c'è la wifi gratuita, non ci sono barriere architettoniche, quindi è accessibile ai disabili. I cani sono ovviamente ammessi, vi invito ad andare alla svolta perché è veramente un posto fantastico, unico nel suo genere, gestito da persone fantastiche. E poi si mangia bene, si mangia sano, a chilometri zero, cosa volete di più? Venite alla svolta. Io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video che parlerà di... Io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video.